Al di là della vittoria, siamo soddisfatte di come l'abbiamo conquistata, del lavoro fatto in campo, non abbiamo mollato nessun pallone ed era importante comunque dopo un periodo di stop riprendere con il piede giusto, ricominciare sin da subito e l'abbiamo messo in pratica, quindi siamo felici. Volevo chiederti quanto è difficile riprendere dopo un mese ma evidentemente per voi non è stato così difficile, siamo rimaste concentrate su quella che ha la pallavolo anche in queste vacanze, però già da quando abbiamo incominciato ad allenarci in questa settimana siamo rimaste lì con la testa e ci siamo anche allenate bene e oggi si è visto anche durante il gioco.